Ben entrati in studio per la pagina sportiva, iniziamo parlando del calcio con l'eccellenza, ascoltiamo dunque le parole del collega Mattia Andriolo. Sul filo del rasoio, 12 punti in palio quasi per tutti, 4 giornate ovviamente, un solo posto per il titolo, riparte da qui il campionato d'eccellenza nel pomeriggio di mercoledì sono state recuperate tutte le partite lasciate indietro per gli stop covid con i successi con qualche sorpresa di Sestese e Ardor Lazzatre contro Base 96 e Vergiatese. Domenica si torna in campo per darsi battaglia, la capolista Brian Solginatese è forte dei tre punti di vantaggio ma con una partita in più che verrà scontata l'ultima giornata e attesa dal big match contro il Milano City. La squadra di Aiello si sta godendo la settimana dopo il successo pesante e sudato contro l'Ardor Lazzatre di settimana scorsa e farà di tutto per proseguire la corsa verso i piani alti della classifica. Se l'Ulginatese non può sbagliare un colpo altrettanto e forse ancora di più non può fare la varesina, la partita vinta è sofferta contro l'Assestese con due rigori deve tramutarsi in una grande prova contro la Vergiatese arrabbiata dall'ultimo K.O. interno. Si gioca in quel di Venegono, fattore campo dalla parte di Rebolini e compagni ma questo campionato ci è ormai abituati a non fare troppo conto sui pronostici. Torna in campo dopo la pausa il Gavirate, gli otto punti in classifica stanno forse stretti alla squadra di Caon e per poter ambire a qualche posizione più su bisogna passare attraverso i tre punti di Lazzate, squadra sempre più protagonista, soprattutto in casa, di questa stagione. A chiudere il tabellone di giornata a base 96 Ponte Lambrese e Castanese Luciano Manara le ultime quattro dello schieramento, mentre l'Assestese si ferma per il suo turno senza partita. Tutti in campo alle 15.30, occhio al traguardo che ormai è dietro l'angolo. E' tempo di playoff nella serie C-Gold della Pallacanestro, ascoltiamo Diego Marturano. La C-Gold è ormai arrivata all'ultima giornata di campionato, nel prossimo fine settimana si deciderà il tabellone anche se ci sono già dei verdetti dei quali parlare. Partiamo dal giro ne ha velocemente. Virtus Lumezzani e Pizzighettone nel fine settimana si giocano il primo posto, primo posto importantissimo per il tabellone playoff perché ti dà vantaggio del campo fino alla finale. Olimpia, Romano e Sanse invece si giocano dal terzo al quinto, quindi in pochissimi giorni una rimarrà addirittura fuori dai playoff. Nel girone B Desi è prima, Lissone è seconda, visti i risultati nel fine settimana, compresa la sconfitta di Palminano con Bocconi. Socialosa ufficialmente quarta perché ha vinto con Busnago lo scontro diretto. Nel girone C di Saronno prima avevamo già detto nella scorsa settimana, Milano 3 e Gallarate invece giocheranno per il secondo e terzo posto nel fine settimana a sfide incrociate con Legnano e Gazzada che invece saranno in campo per il quarto. Gazzada una partita in meno recupera mercoledì contro Mortara. Questa è la situazione, il prossimo turno dice Romano contro Sanse per l'infrasettimanale più Olimpia contro Romano, Virtus Pizzighettone e Soresina Brescia. Nel girone B invece Busnago-Lissone, Cermenate-Cernusco, Socialosa-Palminano e Bocconi-Desio. Nel girone C per chiudere, Varese contro Saronno, Legnano contro Mortara, Gallarate-Arcisate e Gazzada-Milano 3. Questa è la Serie C Gold, settimana prossima 55 a canestro, martedì alle 11 su rete 55. Tutto il tabellone dei play-off della categoria. Ed ora un'anticipazione della nuova puntata di Bocce Forum. Ospite, Daniela Colonna-Preti, presidente della Pola Varese, associazione polisportiva, che si occupa in particolar modo di sport per disabili. Parliamo dunque della boccia paralimpica. Daniela Colonna-Preti fa un appello che le nuove strutture, in particolare quella di Crenna-Gallarate, che dovrebbe presto essere ristrutturata, tengano conto anche delle esigenze delle persone disabili. Ascoltiamola. Tocchiamo ora un tasto dolente, un argomento di cui parliamo spesso durante il nostro Bocce Forum, cioè la non possibilità di accedere nella maggior parte nelle strutture delle vecchie bocciofile anche della provincia di Varese da parte di persone che abbiano una disabilità. Sicuramente il plus di questa tipologia di disciplina, quindi della boccia paralimpica, è che si può giocare in palestra, quindi in realtà non richiede per forza la presenza di una bocciofila. Però noi in queste settimane stiamo molto parlando del recupero del bocciodromo di Crenna-Gallarate, quindi sempre in provincia di Varese. La speranza è quella che vengano creati degli spazi accessibili veramente a tutti e che quindi le barriere architettoniche in queste strutture sportive non esistano più. Ma uno spazio come quello, con tanti campi, potrebbe avere una zona dedicata alla boccia paralimpica, che in fondo è come un pezzo di palestra. Adesso le misure esatte non le ricordo, ma so che il nostro salone è sui 13 metri per 5 o 6 e ci sta al campo. Quindi ricavare magari un corridoio di questo tipo, se la struttura appunto dal punto di vista dei bagni e delle barriere architettoniche è a posto, si potrebbe far nascere un polo anche lì. La nostra esperienza la possiamo mettere a disposizione e poi ci si può rivolgere alle associazioni del territorio che hanno questo tipo di ragazzi. Mi viene in mente l'Aias, a volte anche Anfas, magari qualche scuola. Ecco, fare un progetto pilota che sarebbe una bella cosa da proporre nella nostra provincia. Anche con la pagina sportiva abbiamo terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete55. Grazie, arrivederci. Grazie.